Siamo all'interno del padiglione produttivo italiano di Olympia Splendid, quella qui con me è la nuova generazione di UNICO, i climatizzatori senza unità esterna. Sono tutte pompe di calore aria-aria ad elevate efficienza energetica. Possono essere utilizzati sia in raffrescamento che in riscaldamento, permettendo quindi la gestione del comfort climatico durante tutto l'anno. La nuova gamma di UNICO introduce molto novità. In questo video ci soffermiamo però sulla possibilità di scegliere la configurazione della macchina, che può essere settata in solo freddo, solo caldo oppure caldo e freddo. Caratteristica interessante è che impostando la macchina in solo freddo è possibile evitare di realizzare lo scarico della condensa. Questo perché la condensa viene raccolta da una poesia da bacinella e poi distribuita tramite una pompa sulla batteria condensante, che si occupa poi di eliminare la condensa vaporizzandola verso l'esterno. In questa modalità il climatizzatore senza unità esterna può essere installato in maniera più semplice, realizzando soltanto l'allacciamento elettrico e i due fori da 200 mm. Grazie. Grazie.